eccoci qui di nuovo in onda e rinati idea per voi lezioni di stile e con noi questa sera con grande onore toni esposito una leggenda qui a milano in concerto buonasera toni buonasera buonasera a tutti stasera grande concerto devo dire grande perché ci sono tanti musicisti con me che vengono un po da tutte le parti del mondo ricordo one carlos da cuba c'è l'argentina poi c'è la cantante che brasiliana una musica di molti generi ma soprattutto mediterranea e dove siamo questa sera in concerto toni questa sera un locale molto particolare perché un locale dove c'è sempre stata tendenza si chiama santeria nel centro di milano e c'è tanta c'è tanta attenzione per questo tipo di musica oggi la musica questo che si chiama crossover va dal jazz al funk al hip hop è quello che a noi ci piace con tanto stile perché tu fai anche moda sei anche un influencer della moda quanto ci risulta ci racconti un po la storia io vengo dall'accademia d'arte e ho lavorato dipingendo stop e gioielli adesso ripreso a dipingere questa sera avrò un gilet dipinto da me ho dipinto le mie scenografie insieme a un famoso pittore americano che si chiama marco stabi facciamo un mostro in giro in tutto il mondo riprendo di ho ripreso a dipingere sono di nuovo ton esposito non solo un musicista ma anche pittore sei un artista a tutto tondo a 360 gradi con grande classe grande stile con noi qui a milano che la cosa più importante ragazzi quindi non potete mancare a breve in concerto state qui con noi ciao santeria